come fare per riconoscere gli spazi aerei su di flight per capire dove poter far volare un drone e con quali limitazioni ce lo spiegherà massimiliano barbaro che ringrazio per la collaborazione che vi ricordo è un istruttore apr e controllore di volo dell'aeronautico militare prima di lasciarvi alla sua spiegazione che sostanzialmente la seconda parte del tutorial droni e spazi di volo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa invito a supportare il canale queste iniziative divulgative iscrivendovi e lasciando un like e andando a trovare anche il gruppo facebook dji mavic mini sardegna da cui proviene massimiliano barbaro benvenuti in un nuovo video di quadricottero news buongiorno a tutti eccoci qui questa è la seconda parte del video tutorial sugli spazi aerei e come avevamo anticipato la volta scorsa oggi andremo a vedere all'interno del portale di flight come poter riconoscere questi spazi aerei come poter individuare dove poter volare dove non è consentito le quote i limiti gli orari e le altre regole del dell'aria applicabili alla ai nostri droni e ai nostri apr prima di entrare nel vivo della registrazione però volevo un attimino salutarvi eccomi qua sono massimiliano volevo ringraziare tutti anche a nome dello staff del gruppo dji maic mini sardegna per i tanti apprezzamenti e per tutte le visualizzazioni che sono state fatte riguardo al nostro primo tutorial sugli spazi aerei anche diciamo sugli altri contenuti che in questo periodo stiamo pubblicando cerchiamo di fare di tutto per diciamo portare avanti questo progetto per la divulgazione della cultura aeronautica e dei giusti principi di utilizzo del drone nel rispetto delle normative siamo pochi come staff quindi mi scuso in anticipo con tutti voi se magari non non riusciamo a rispondere alle vostre domande stanno arrivando tante anche via messenger via mail insomma tante forme di quindi noi cerchiamo di fare di tutto però appunto magari speriamo speriamo di colmare alcune lacune attraverso questi video tutorial perché rispondere a tutti è veramente un po un po difficile allora fatti di doverosi ringraziamenti torniamo alla nostra presentazione andiamo avanti più veloce possibile per chi se la fosse persa la prima parte sugli spazi aerei ovviamente è propedeutica a questa che stiamo trattando oggi quindi invito tutti andarlo a cercare andarla a rivedere allora prima di addentrarci all'interno del portale vediamo un attimino questi questi item chi è di flight e perché in qualche modo ci dobbiamo registrare di flight è una società del gruppo enav spa che è la società italiana che si occupa della navigazione aerea perché registrarsi ad flight ovviamente perché innanzitutto va premesso che a parte i droni giocattolo ogni drone è equiparato a un aereo mobile a tutti gli effetti delle leggi italiane del codice della navigazione queste stesse leggi italiane e codice di navigazione attribuiscono all'enac ente nazionale dell'aviazione civile l'autorità unica di regolazione tecnica certificazione vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in italia pertanto l'enac ha emesso il regolamento sui mezzi apr a cui ogni utilizzatore di drone a prescindere dal peso o dalle finalità del di utilizzo è tenuto a leggere e applicare con l'entrata in vigore dell'ultima edizione poi la numero 3 quella di dicembre 2019 del regolamento apr dell'enac viene introdotta nelle norme tutta una serie di compiti e servizi attribuiti appunto alla società di flight quindi sostanzialmente di flight è il portale dedicato e riconosciuto dedicato appunto agli operatori APR tra questi servizi ce n'è uno che sostanzialmente è obbligatorio per tutti ossia quello della consultazione della cartografia di riferimento sugli spazieri quindi tutte le zone consentite al volo quelle proibite quelle con limitazioni orarie oltre che le relative regole del volo da applicarsi al loro interno come ad esempio possono essere le quote tutti dobbiamo conoscere dove non è consentito volare e dove è consentito farlo dobbiamo conoscere le quote ed eventuali regole da applicare infatti il regolamento APR all'articolo 7 comma 6 lettera c stabilisce testualmente che durante il volo il pilota remoto deve rispettare le limitazioni nell'utilizzo dello spazio aereo stabilite dall'enac e disponibili sul sito di flight quindi stancisce l'autorità di di flight nel fornire appunto la diciamo le limitazioni sull'uso dello spazio aereo e ancora all'articolo 24 comma 6 dello stesso regolamento si stabilisce che l'enac per motivi di ordine pubblica e sicurezza su richiesta dell'amministrazione competente istituisce zone di divieto temporaneo di sorvolo agli APR le cosiddette no flight zone che appunto sono zone temporanee quindi non sono gli spazi aerei che a breve andremo a trattare ma che di volta in volta si possono costituire oppure no pertanto tale informazioni sono pubblicate esclusivamente sul sito di flight e questi sono i motivi che siamo perché siamo tutti obbligati dal regolamento a consultare il sito di flight a prescindere quindi dal peso dall'impiego del drone per fare questo tipo di consultazione necessaria la registrazione al portale che ricordo è in forma totalmente gratuita poi fatta la registrazione al portale e quindi avendo la possibilità di consultare le mappe volare secondo il regolamento in alcuni casi in funzione del peso o dell'utilizzo del drone che sia ricreativo o professionale potremmo dover ottemperare ad ulteriori obblighi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 8 che vi ricordo sono la registrazione come operatore e l'ottenimento di un codice identificativo univoco cosiddetto qr code che deve essere applicato sulla pr prima del suo impiego andiamo avanti e rivediamo quello che abbiamo visto la volta precedente cioè tutte le zone tutti gli spazieri in italia suddivisi per quattro macro aree in blu troviamo quelli per diciamo la protezione della circolazione aerea generale quindi fir cta tma ctr tz rts in rosso troviamo le varie zone papa romeo delta tra tsa eccetera che servono appunto invece per proteggere determinate attività che si svolgono al loro interno al loro interno oppure per proteggere dei luoghi sensibili come potrebbero essere le carceri palazzi istituzionali raffinerie e quant'altro infine è oltre le aree militari e di esercitazione addestramento troviamo tutte quelle in verde che invece sono tutte le altre attività tutti gli altri spazieri che possono appunto come come attività essere di natura pericolosa oltre che ovviamente quelle istituite a protezione ambientale e le vediamo qua in questa in questa slide ho messo una tabella riassuntiva della della circolare en htm 03 la bravo dove appunto c'è un'equiparazione alle zone diciamo cosiddette altre zone a quelle che sono invece le romeo delta e le papa quindi vediamo che ad esempio dove si fa a violancio sono considerate zone romeo dove si fa volo acrobatico stessa cosa stessa cosa anche per le attività di aeroclub gli allianti tutto quello che lavora aereo stessa cosa per le zone dedicate proprio quindi agli aeromodelli e gli apr quindi le società dove dove si va a volare quindi dove si fa volo con gli aeromodelli per divertimento stessa cosa come zona romeo è equiparata anche tutto quello che è in alzamento dei palloni sonda per i radio sondaggi come vedete la possibilità del volo a pr in queste zone è soltanto se non attive quindi sì c'è possibilità qualora queste zone non fossero attive al pari quindi proprio delle zone romeo se invece sono attive bisogna essere autorizzati vediamo in verde invece le attività di volo da diporto sportivo quindi vds gli ultraleggeri che sono considerate una zona delta pericolosa quindi si può volare ma con precauzione perché ovviamente c'è qualcuno che fa attività all'interno e vi ricordo che in quanto conduttori di mezzo apr dobbiamo dare la precedenza a tutti gli altri aree mobili che sono in volo stessa cosa per le zone di emissioni di raggi laser anche se considerate zona delta quindi zona pericolosa infine ma non meno importante abbiamo tutte le aree che sono a protezione dei parchi naturali e in italia lo sappiamo sono tantissime oltre che le zone di protezione di riserva faunistica queste zone qua questi parchi naturali sono equiparati sostanzialmente a delle zone papa quindi delle zone vietate dove non si può volare di fatti ho messo no come possibilità di volo a pr eccetto in alcuni casi e su espressa autorizzazione eccoci qua adesso entriamo all'interno del portale di flight e andiamo a vedere tutte queste zone entriamo quindi nel portale di flight dove ovviamente dobbiamo aver effettuato in precedenza una registrazione facciamo in atto il login con le nostre credenziali e come potete vedere siamo all'interno tutte le zone che hanno diciamo una rappresentazione grafica ovviamente sono le zone dove in qualche modo c'è una restrizione un'indicazione di pericolo diciamo un divieto espresso al volo o comunque sia dove ci sono differenti quote per effettuare i sorvoli e questo lo possiamo vedere sulla parte sinistra in questa leggenda che vedete dove non si vedono colori zone e quant'altro significa che stiamo sostanzialmente in quelle che sono le zone libere siamo all'interno della delle firri italiane quindi roma milano e brindisi e all'interno delle zone dove non ci sono colori dove non c'è nulla il volo è sicuramente consentito fino ai 120 metri previsti prima di andare avanti mi corre l'obbligo fare una doverosa e fondamentale precisazione dobbiamo fare un netto distinguo tra quelli che sono gli spazi aerei le regole le quote e le eventuali limitazioni legate allo spazio aereo con quello che è invece lo scenario a terra quindi uno scenario critico centro urbani installazioni sensibili e quant'altro oppure uno scenario non critico fuori dai centro urbani a 150 metri dagli edifici eccetera eccetera perché non deve passare il messaggio che siccome entro su di flight e di flight mi segna che quel dato spazio aereo mi consente di volare a 120 metri piuttosto che a 25 a 45 a 60 allora io prendo il drone e volo senza più tener conto delle altre cose devo tener conto dello scenario se sono in città se sono fuori città devo tener conto del peso del mio drone e devo tener conto del mio attestato se sono un attestato critico se sono un attestato non critico quindi se io sto in città e ho un drone che pesa oltre i 300 grammi allora io devo avere un attestato critico per fare quell'operazione a prescindere dalla quota che mi dà di flight se invece sono in città ma utilizzo nel caso un drone al di sotto dei 300 grammi ferme restando tutte le altre disposizioni appunto sui droni inferiori ai 300 grammi quindi paraelic e quant'altro allora magari il problema non c'è sia nel caso di operazioni ricreative che nel caso di operazioni specializzate ovviamente se sono fuori città fuori da un centro urbano ho l'attestato per operazioni non critiche allora va bene guardo la quota ovviamente tengo conto di tutte le altre disposizioni regole varie e volo tranquillamente quindi ricordate un conto degli spazi aerei e un conto delle quote che ci indica di flight e un conto sono le nostre abilitazioni i nostri droni e lo scenario in cui noi desideriamo volare scenario non critico o scenario critico andiamo adesso velocemente molto velocemente a vedere per quanto riguarda la Sardegna ma giusto a titolo di esempio le varie zone che possiamo incontrare all'interno di di flight vi invito come avevo già detto in un precedente tutorial a registrarvi anche all'interno del sito dell'ENAV che è appunto la società madre di di flight per fare questo cioè fare questo significa avere la possibilità di accedere alle informazioni riguardo gli EIP Italia quindi fatta la registrazione sul sito dell'ENAV e fatto il login anche sul sito dell'ENAV e torniamo su di flight adesso abbiamo un controllo un po' più totale rispetto a tutte quelle che sono le zone le EIP e tutte le varie limitazioni allora partiamo sicuramente molto velocemente dalle zone quelle un po' più diciamo proibite sono quelle ovviamente a ridosso degli aeroporti o delle zone molto sensibili perché magari ci sono delle carceri o delle installazioni molto particolari quindi le zone cosiddette zone rosse dove non si può volare le vediamo qui sono quelle subito a ridosso della pista di volo nel caso di Cagliari-Elmas quindi l'aeroporto di Cagliari-Elmas è questa zona che vedete se ci clicchiamo vedete che appare un contorno andando nel box dell'informazione ci dice altezza 0 metri qui lo sappiamo è una zona 0 metri perché è a ridosso dello spazio aereo quindi dell'ATZ dei circuiti di traffico dell'aerodromo quindi in questo caso assolutamente non si può volare al fine di non compromettere la sicurezza dei voli e qualora dovessimo avere necessità per motivi ovviamente soltanto professionali di lavoro di dover accedere a quest'area va fatta una specifica richiesta all'ENA che è anche alla direzione aeroportuale dell'aeroporto competente in questo caso dell'aeroporto di Elmas man mano che ci allontaniamo come vedete cambiano i colori chiudiamo questo box e qui in questa seconda fascia siamo in zona arancione quindi siamo un po' più lontani dall'asse pista sia in termini laterali che longitudinali e qui possiamo vedere andando nel box informazioni che è una zona dove noi possiamo volare fino a 25 metri di quota quindi qualora io proprio mi volessi avvicinare e il bello di D-Flight è questo che ci consente anche di integrare le mappe di volo con la cartografia stradale qualora io dovessi fare un lavoro esattamente in questa zona piuttosto che questa zona quindi comunque all'interno di questa fascia cosiddetta fascia arancione quindi qui mi dice la cartina giusto un esempio via Umberto Ticca ad esempio se io dovessi fare un'operazione qui basta che io ci punto con i mouse vado nel box informazioni e mi dice che in quel punto e mi dà anche le coordinate latitudine e longitudine posso volare a 25 metri quindi l'importanza di D-Flight rispetto a quella che può essere ovviamente una consultazione da IP Italia quindi a livello cartaceo è proprio quello che va a integrare le mappe stradali con le mappe di volo con le zone di volo quindi andando a zoomare possiamo arrivare fino ai punti che a noi interessano ribadisco il concetto detto prima ovviamente dobbiamo sempre tener conto che siamo in uno scenario quindi scenario critico scenario non critico abbiamo le abilitazioni per volare su quel tipo di scenario allora va bene non le abbiamo allora non possiamo volare a prescindere che D-Flight ci dica che in questa zona arancione si può andare a 25 metri ribadito questo vediamo che uscendo da questa zona entriamo nella zona gialla che è una zona sempre a ridosso dell'aeroporto quindi rientra in qualche modo nella TZ aeroportuale però è un po' più permissiva come quota entriamo infatti ci dà 45 metri Cagliari-Elmas 1432 che sono l'orientamento della pista su Cagliari-Elmas e qui possiamo volare appunto fino a 45 metri alternandoci un po' di più entriamo invece in un altro spazio aereo quindi usciamo un po' dalla TZ in questo di color celeste che vedete evidenziato qui questo vedete qui in basso Cagliari-CTR quindi vediamo un altro spazio aereo il CTR che serve sempre per appunto proteggere e istruire e gestire la circolazione aerea nel CTR diciamo la possibilità dove c'è un CTR la possibilità di volo come vediamo qui è fino a 60 metri e quindi anche in questo caso se noi dovessimo fare dei lavori ai fini ricreativi o comunque sia ai fini professionali noi possiamo avvicinare la nostra mappa in questo caso siamo poco a est rispetto al paese di Sesto ad esempio se prendo un punto X una strada provinciale questa che vedete qui clicco sopra e mi dice che sono in questo punto qui all'interno del CTR che va che si estende come superficie si estende dal suolo fino in questo caso fino a 1500 piedi ovviamente mi sembra importante ribadire un concetto che questo portale il portale di flight nasce come portale di riferimento per i droni gli spazieri per i droni quindi di conseguenza gli spazieri più alti che diciamo come potrebbero essere le altre zone del CTR di Caglia o qualsiasi altra zona o le rotte le aerovie e quant'altro siccome sono a una quota talmente elevata non vanno a interessare la zona dove è consentito volare con il drone quindi non sono rappresentate tutto quello che vedete rappresentato in qualche modo invece va a incidere con l'attività degli APR ci spostiamo vediamo un'altra zona andiamo qui dove vedete questa zona questo spazio aereo di forma cilindrica ci clicchiamo dove vedete questo cerchio clicchiamo e ci dice vedete che lo evidenzia in bianco il contorno ci dice questa informazione Papa 269 UTA andiamo nel box e ci dà altezza di volo massima 0 metri ci dice che le regole dell'aria le operazioni in questa zona non sono consentite perché è una zona vietata quindi in questo caso per chi la conosce UTA è la zona dove sta il carcere quindi in questo caso la Papa la zona Papa lo spazio aereo Papa è stato istituito a protezione di un edificio sensibile di una zona sensibile possiamo vedere che nel caso di diciamo del Papa delle Delta delle Roma o anche di altre tipologie di spazio aereo D-Flight nel suo box informazioni ci dà la possibilità di cliccare attraverso questo link di cliccare e di andare e di accedere direttamente all'AIP Italia ecco perché vi dicevo in precedenza che è importante registrarsi anche al sito dell'Enav e prima della consultazione di Flight in qualche modo fare un login anche sul sito dell'Enav perché guardate adesso io clicco qui e mi porta direttamente proprio all'interno della pubblicazione AIP Italia redatta dall'Enav che mi parla di tutte le zone vietate è in ordine quindi io devo andare a vedere la PAPA 269 scendo 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 fino appunto ad arrivare PAPA 269 eccola qui PAPA 269 UTA diciamo una zona è un spazio aereo che ha un cerchio di raggio di mezzo milionautico come vedete qui incentrato su questo punto geografico e come estensione verticale questa zona questo spazio aereo va dalla questa sigla sta per surface quindi dalla superficie fino a 1500 piedi AGL significa above ground level quindi sul livello terra questa rappresentazione che vedete qui e in tante altre rappresentazioni riguardo le mappe e le cartine sta appunto a indicare questa rappresentazione che vedete qua sulle diciamo riguardo questa rappresentazione che vedete qua con questa linea e questi valori che stanno al di sopra o al di sotto rappresenta il limite verticale dell'area che noi stiamo prendendo in considerazione all'interno di D-Flight come vedete al di sotto della linea quindi il limite inferiore di quest'area è surface quindi superficie terrestre il limite superiore in questo caso ci dà 1500 piedi AGL quindi sul livello medio della terra il divieto è divieto di sorvolo per edifici particolari quindi abbiamo detto in questo caso un carcere e quindi noi sappiamo esattamente qui che c'è ritorniamo su D-Flight andiamo avanti andiamo a vedere qualche altra zona come potrebbe essere la zona questo cerchio qui ci clicchiamo vedete che il contorno si borda di bianco clicchiamo su box informazioni ci dice Serdiana altezza 0 metri che cosa c'è qui è una zona dove all'interno non si può volare apriamo il menu a tendina in basso zone interessate e ci dice che qui viene fatto attività lanci paracadutisti come al solito c'è il rimando all'EP Italia alle route 5.5.1 clicchiamo e andiamo a vedere tutte le zone in Italia di lanci paracadutisti scendiamo e andiamo a cercare Serdiana Serdiana in quanto Sardegna fa parte della giurisdizione della FIER di Roma quindi andiamo a cercare Serdiana eccola qui anche qui ci dice com'è questo spazio aereo quindi 2 miglia in questo caso di raggio il cerchio è incentrato sul punto geografico che è da qui ci fa vedere sempre le quote quindi va anche in questo caso dalla superficie terrestre limite inferiore poi c'è la linea limite superiore livello di volo 170 gli orari quindi la terza colonna in questo caso periodo di attività negli orari vediamo che dal giorno sunrise sunset meno 30 più 30 quindi da mezz'ora prima della diciamo del sorge del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto quindi in questo caso sappiamo che che tipo di attività c'è e se ci possiamo volare o se non ci possiamo volare andiamo a vedere un'altra zona molto dibattuta in questo periodo che è questa grande area che vedete nel versante occidentale della Sardegna ci clicchiamo sopra ed è la Romeo 54 quindi una zona Romeo quindi facciamo un esempio se io abito a Terralba che è un paese ecco qui dell'oristanese se io abito a Terralba clicco su questo punto voglio sapere qui dove sto ci clicco mi dice sei in zona Romeo 54 oristano mi da 0 metri però qui vedete nel box informazioni state attenti a questo aspetto qui ci dice che le operazioni nelle zone regolamentate non sono consentite quando attive quindi ecco l'importanza di avere poi il collegamento all'EP Italia attraverso la registrazione al sito dell'ENAV perché in questo caso dobbiamo vedere quando sono attive ci clicchiamo e ci apre nelle route 5.1.2 tutte le zone regolamentate d'Italia andiamo a cercare la 54 sempre in ordine di numero 45 46 49 eccola qua ci siamo Romeo 54 oristano ci dice quali sono i punti che delimitano i suoi confini laterali ma lì abbiamo la rappresentazione grafica di flight che ci viene in soccorso guardate bene a questa cosa qui la zona ha come limiti verticali dalla superficie della terra quindi surface limite inferiore fino al livello di volo 600 però dobbiamo vedere quando è attiva perché appunto ci diceva che quando non è attiva si può andare questa zona possiamo vederlo nella colonna numero 4 HR sta per appunto orario la zona è attiva da lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi che possono ricadere da lunedì al venerdì quindi che cosa significa che sabato e domenica la zona non è attiva quindi non essendo attiva è consentito il volo con gli APR inoltre vedete qui che ecco perché va fatta la consultazione dell'AP Italia perché se non avessimo fatto questo tipo di consultazione noi adesso oltre a non sapere gli orari vedevamo che come è indicato qui nel box che la quota era 0 metri e quindi non avremmo mai potuto volare al suo interno invece fuori dagli orari di attivazione possiamo volarci in più ci dice che all'interno guardate bene dell'area delimitata dai punti e ci dice tutti questi punti geografici il limite inferiore della ROM 54 non è più surface quindi superficie del suolo ma è innalzato a 500 piedi quindi che cosa significa 500 piedi grossomodo corrispondono a 160 metri quindi significa che all'interno dell'area che si delimita con questi punti sotto a 160 metri siamo fuori dalla ROM 54 e quindi addirittura ci possiamo volare tutti i giorni non soltanto il sabato e domenica proprio perché fino a da 0 a 500 piedi non è ROM 54 questo vale per quest'area ma vale per tante altre aree ovviamente l'importanza appunto di entrare all'interno di D-Flight e all'interno dell'ENAV simultaneamente poi non lo so possiamo cliccare qui dove c'è questo reticolato e andare a vedere cosa c'è ci clicchiamo in basso ci dice delta 33 forni clicchiamo sul box e ci dice che possiamo volare fino a 120 metri quindi che cosa significa è una zona pericolosa ok però all'interno delle zone pericolose le Dangerous possiamo comunque volare ovviamente come ci dice qui nell'aereo dell'aria dobbiamo prestare attenzione alla natura pericolosa delle attività che si svolgono all'interno e ovviamente dare la precedenza a eventuali altri aeromobili presenti e ci rimanda sempre all'EP Italia dove appunto possiamo trovare come abbiamo visto prima in questo caso la zona pericolosa zona pericolosa delta scendiamo delta 33 eccola qui la troviamo subito ci dice che la zona va dalla superficie del suolo fino a 2000 piedi e qual è la natura dell'attività che è svolta all'interno in questo caso intensa attività di elicotteri e poi nel campo 4 vediamo l'orario in questo caso HJ sta per alba tramonto meno più 30 quindi da mezz'ora prima dell'alba mezz'ora dopo il tramonto questa zona è attiva per fare attività intensa di elicotteri quindi ci possiamo volare perché T-Flight ci dice potete volarci ma ovviamente dobbiamo prestare attenzione dov'è che sostanzialmente siamo un po' più tranquilli dove magari siamo in una zona dove non c'è nessun tipo di aria segnata adesso vediamo che c'è qui vicino qui questo paese si chiama Nuradda Nurallao ci clicco Nurallao il box informazioni e dice tranquillamente che il punto selezionato latitudine e longitudine è che posso volare fino a 120 metri che corrispondono a circa 400 piedi e quindi io qui in questo caso siamo fuori da qualsiasi altra zona Nurallao e possiamo volare un attimino un po' più tranquilli ci spostiamo invece un po' più a nord della Sardegna andiamo a vedere anche la parte a nord abbiamo le zone di Alghero e di Olbia anche in questo caso con i due aeroporti principali di Alghero e di Olbia come vedete è qui ovviamente ritorniamo alla situazione di Cagliari zona azzurra quindi il CTR in questo caso di Alghero ci clicchiamo vedete quest'area che si evidenzia Alghero CTR altezza massima 60 metri qualora invece ci avvicinassimo alla zona dell'aeroporto ritroviamo diciamo quei rettangoli di colore diversa a protezione appunto via via sempre più stringente man mano che ci avviciniamo all'aeroporto quindi la zona rossa quella proprio intorno all'aeroporto lo ribadiamo 0 metri aeroporto di Alghero Fertilia con l'orientamento delle piste 0-2-20 di qui non si può volare la zona arancione sempre diciamo legata all'aeroporto 25 metri e la zona gialla via via che ci allontaniamo 45 metri quindi questo a grandi linee è quello che c'è da vedere volevo andare un attimino magari in una realtà un po' più complessa come potrebbe essere quella di Roma ma vale anche per le altre grandi città siccome abbiamo parlato di possibilità di volare in città soprattutto nel nostro caso col Mavic Mini anche a uso ricreativo mi sembra doveroso ovviamente sensibilizzare anche sulla questione degli spazieri se è vero che la normativa ci consente di volare in centri urbani col Mavic Mini anche ad uso ricreativo ovviamente siamo sempre tenuti in quanto utilizzatori di un drone e quindi di un aeromobile a consultare il sito di flight in questo caso vediamo che su Roma per ovvie ragioni ci sono zone rosse zone gialle con tante limitazioni dovuto appunto proprio alla morfologia dello spazio aereo sulla capitale se clicchiamo in vari punti della città vedete che si apre diciamo ci fa visualizzare una zona in questo caso Papa 244 e ci dice edifici istituzionali quindi 0 metri una Papa zona proibita allora volessimo volare come abbiamo detto già in altre circostanze all'interno di una zona proibita dobbiamo fare espressa richiesta a ENAC o comunque espressa richiesta in questo caso magari anche alla prefettura di Roma perché in quanto una zona che va a proteggere un edificio istituzionale per motivi di sicurezza e ordine pubblico diciamo l'autorizzazione deve essere filtrata dalla prefettura della città in questione quindi Roma se ci spostiamo da questa zona in un'altra zona possiamo vedere ad esempio città del Vaticano Papa 243 anche qui per ovvi motivi non si può volare siamo sopra il Vaticano quindi le operazioni non sono consentite anche in questo caso qualora ci dovesse essere una necessità di voler volare su questa zona dobbiamo sempre fare richiesta a ENAC e che poi ENAC ovviamente ci dirà esattamente a chi notare la richiesta per chi ha competenza su quella zona ovviamente sarà sicuramente il Vaticano quindi sarà anche una cosa abbastanza complicata da ottenere però chiedere è lecito altre zone di Roma come potrebbe essere questa qui quindi questo questo semicirchio ci dice Romeo 19 Alfa Roma Città andiamo a cliccare e anche in questo caso ci dice che l'altezza massima è 0 ci dice che le operazioni nelle zone regolamentate non sono consentite quando attive andiamo a vedere proprio questa Romeo 19 Alfa Roma Città che cosa ci dice in EP Romeo 19 Alfa prima cosa che vediamo subito la quota da 0 a 1000 piedi è quando è attiva orario H24 quindi è sempre attiva la zona è una zona vietata per motivi di sicurezza e quindi è una di quelle zone Romeo che sostanzialmente è configurabile quasi al pari di una zona papa in quanto non è volabile mai non ci sono degli orari che ci consentono di poter volare però ovviamente rimane sempre in piedi il discorso fatto sinora che possiamo chiedere eventuali autorizzazioni per eventualmente anche ottenerle come hanno fatto dei nostri utenti di poter volare su Roma addirittura c'è chi ha ottenuto l'autorizzazione a poter volare anche sui fori imperiali in questo periodo quindi io direi che a grandi linee ci siamo abbiamo fatto una velocissima carrellata per motivi ovviamente di durata del tutorial per non appesantirlo ovviamente non siamo riusciti a scendere nel dettaglio di ogni singolo aspetto ma diciamo i comandi principali le cose principali come associare i vari spazieri le quote e quant'altro e la navigazione su dflight e nonché la registrazione a ENAV per poi poter accedere in app itali quindi io diciamo direi che avrei concluso per questa presentazione vi ringrazio io l'ultima cosa che vorrei dire che ovviamente dflight è un portale nato di recente che potremmo trovare delle incongruenze tra le zone pubblicate all'interno dell'IP Italia le zone riportate su dflight ma questi ovviamente sono vizi di gioventù vi invito a segnalare a dflight attraverso l'email dedicata qualora doveste appunto riscontrare delle incongruenze direi che è tutto noi come gruppo Mavic Mini Sardegna restiamo a vostra disposizione se avete delle curiosità delle domande faremo in modo compatibilmente col tempo a disposizione con gli impegni lavorativi e familiari di accontentare tutti voi e soddisfare le vostre richieste vi ringrazio e vi auguro buona serata grazie a tutti